Eccomi, sono Gabri Costa ragazzi, eccomi qua scusatemi, volevo dirvi questo, ad Ultimate Marvel Contro Capcom 3 dopo che vi ho fatto vedere le illustrazioni del personaggio di LC Jill Valentine, ora vi farò vedere le illustrazioni di quest'altro personaggio di LC, vi farò vedere Shumagorath, se non avete notato Shumagorath è una piovra monocola, avete visto? Fa tutti questi tentacoli e poi ci vede un solo occhio e poi mi fa parlare anche se non ha la bocca, ricordatevi che Shumagorath è sempre nemico del Doctor Strange, l'ha sempre odiato a morte e lo vuole distruggere, ora guardate com'è l'illustrazione del finale di Shumagorath che io non ho mai visto, guardate Shumagorath è finito in prima pagina e i giornali dicono che ha sconfitto Galactus il divoratore di mondi, poi all'improvviso Shumagorath finisce in un quiz televisivo, avete visto? Si presenta in uno spettacolo televisivo che diventa un presentatore, così il pubblico e i cameraman lo vedono e lo inquadrano, caspita, e poi indossa anche un farfallino, un papillon rosso, non avevo mai visto sto finale di Shumagorath. E' tutto ragazzi, vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e ringraziate Gabriosta che vi sta facendo vedere troppe cose nuove di Ultimate Marvel contro Capcom 3, così almeno sarete tutti felici e contenti.